Trasferta ad Erice contro la Procori per l'Alba Verde Caltanissetta, che vuole chiudere al meglio questo 2022 con un'altra vittoria e allungare la sua striscia positiva e anche in classifica. Le giocatrici nissene dopo la vittoria di sabato al Palacanizzaro contro la Saracena sono concentrate a raggiungere l'obiettivo stagionale, ovvero i play-off, ma si sogna qualcosa di molto di più. Ecco il quadro dell'undicesima giornata del campionato di Serie B2 Girone M. Pallavolo Crotone Cuscatania, Procori e Ricina Alba Verde, Zafferana Stefanese, Funivia Etna Gioiosa, Brico City Ardenz Comiso, Saracena Fidelis Torretta, Volley Region Planet.